Musica Tre spettatori, ben ritrovati con l'informazione di Terediogene. Fogna a cielo aperto nel quartiere Lampanaro di Crotone. Gli abitanti della zona da cinque mesi invocano l'intervento di Comune e Aterp che però si rimbalzano la palla senza risolvere il problema. Sembra di essere in una zona dell'Africa, quella più abbandonata del mondo. Ma in Africa queste cose, nelle zone più abbandonate dell'Africa, non succedono. Quartiere Lampanaro, quella che vedete è una perdita fognaria. Si vede pure, oltre a sentirsi la puzza, si vede pure una fogna che è al ridosso delle abitazioni. Qualcuno pensa da qualche giorno, no, sono cinque mesi. Cinque mesi che gli abitanti di questa zona chiedono l'intervento al Comune, all'Aterp, a tutti quanti. A tutti quanti e dei cinque mesi questa fogna continua a sgorgare come se nulla fosse. E a inquinare quest'ambiente, non ce la fate più? No, non ce la facciamo più. Abbiamo chiamato anche i carabinieri, i carabinieri hanno chiamato al Comune, abbiamo parlato. Loro, sì sì, martedì veniamo. Ma non hanno detto di quale mese e di quale anno? No, no, non hanno detto niente. Martedì, martedì veniamo, però il mese e l'anno non hanno detto. No, non l'hanno detto, no. Qua ci sono anche bambini che giocano, non si può stare. E mi sporca anche dalla doccia a me, quando fa lo scarico. Cioè dalla doccia viene fuori la fogna? Sì, viene fuori, sì. E l'Aterp non... No, niente, niente, non vuole sapere niente. Il Comune pure. Cioè, allora stava dicendo? E l'Aterp che ci dice che dobbiamo andare al Comune, dal Comune all'Aterp. E intanto la fogna è qui da cinque mesi? La fogna è da qui da cinque mesi. Noi siamo una famiglia composta di quanto? Otto per otto famiglie. Sì, una palazzina di otto famiglie. Oggi perché i figli sono cresciuti, però abbiamo i nipoti. I nipotini adesso non neanche possono giocare. Manco questo, manco questo. No, non possono giocare, perché ogni volta ci va la palla, schizza nella bocca, l'igiene, e non viene una qualerca. Non è pulito, perché come fanno a pulire? Cioè non hanno potuto togliere manco le erbacce. Nemmeno, nemmeno. Nel bacio non ho, perché c'è un... Sì, stanno pulendo, però qua non hanno potuto fare, perché è pieno di fogna. Come fanno a entrare... Cioè gli operai come fanno a mettere... A mettere, a mettere le... Infatti... Eccolo qui, stava arrivando. Allora, non avete potuto... Voi state lavorando stamattina qui. Sì, esatto. E veramente siamo a una settimana che stiamo provvedendo a... A togliere le erbacce. Esatto, sì. Ma come si può vedere, onestamente, lì dentro non ci si può assolutamente mettere piede. Questa è una situazione... Ne piede, ne mani. Addirittura, diciamo così. La situazione si può trattare da parecchi mesi, perché questa è la seconda... Sono cinque mesi. È la seconda volta che noi stiamo intervenendo qui nella zona di Lampanaro e purtroppo ancora non è stato risolto questo problema. E voi continuate a vivere nella Fogna? Eh, nella Fogna stiamo. Non solo nella Fogna, la scoria che abbiamo... No, quelle sono un'altra cosa ancora peggio. E però immischiamo anche la Fogna, a qual era, come dirci. Restiamo nel quartiere Lampanaro, dove un cittadino denuncia un'alta percentuale di morti per cancro. Questo signore abita a Lampanaro. Abita a Lampanaro in uno dei quartieri più degradati d'Italia, diciamo. Questo è ancora chiuso, perché sotto sono stati trovati dei veleni, è ancora interdetto, ma ha lasciato così. Questo signore ci racconta la sua storia. Lui? Luli Dante, mi chiamo io. Ogni portone, potete chiedere, ogni portone ce ne sono due che hanno morto. Due. Allora, ci sono persone morte di cancro, perché questo signore è andato a Roma a operarsi di cancro. Di cancro. Ogni portone ce ne sono due. Cosa di portone? Allora, in questa zona di Lampanaro, abbandonato da Dio e dagli uomini, abbandonato anche da Dio e dagli uomini, si muore di cancro. Si muore di cancro. Si muore di cancro. Ogni portone, ogni abitazione, ogni palazzino. Perché la polvere di là la troviamo dentro. Sui mobili, quella polvere, quando c'è vento, la troviamo dentro. Poi ci sono bambini che ci giocano, non lo so come si deve fare, perché è impossibile. Ogni portone due, tre, due o tre. Cioè non è che stiamo raccontando festeggi? No, no, la cosa è seria. La cosa è seria. Lì ne hanno morto due, uno. Due, Mario è nato, come c'è la paella? Caccio, sono nato due. Senza cognome. Marete e moglie. E Daccio e Marete e moglie. Non ce la fate più? Eh, basta, basta. Lei si è operato a Roma? Sì. Il 20 novembre. A questo si riferiva il signor Dante, quel cittadino che si è operato a novembre di Cancro. A questa situazione. Qui sotto, quest'area è stata sequestrata dalla Procura delle Repubbliche ed è rimasta così. Guardatela. Guardatela. Un deserto. Un deserto vero e proprio. Un deserto da dove si solleva la polvere, va nelle case dei cittadini. E c'è uno stato di abbandono in questo quartiere perché poteva essere fatto anche un tombamento, eventualmente. Poteva essere fatto anche un tombamento per evitare la polvere per questi cittadini. Di questo quartiere che davvero vive uno stato di abbandono unico, incredibile, la situazione di questo quartiere. Politica locale, candidati a sindaco per la città di Crotone. Nessuna sorpresa nell'uovo di Pasqua del PD e anche nel centro-destra. Ancora tutto tace. Candidato cercasi e non si riesce a trovare, aggiungo io. Il PD non riesce a trovare un candidato perché uno dietro l'altro stanno rifiutando tutti. Matteo Ambrosio che in un primo momento aveva detto un sì, ci ha ripensato. Ci ha ripensato e ieri ha ringraziato quelli che gliel'hanno proposto e non candidato a sindaco, stiamo parlando ovviamente. E ha detto no grazie, non intendo candidarmi a sindaco con nessuno. Subito dopo Matteo Ambrosio era stato fatto il nome dell'avvocato Francesco Verri. Un nome pesante per il ruolo sociale che ha anche Verri, per il ruolo professionale che ha Verri. Verri è un avvocato importante del foro di Crotone, ma anche il presidente del club velico di Crotone che ha organizzato una serie di iniziative che hanno acceso i riflettori della vela mondiale su Crotone. Bene, Verri è stato direttamente contattato dal presidente della giunta regionale calabrese Mario Oliverio. Mol Oliverio gliel'ha chiesto personalmente a Verri e che cosa ha risposto? Ci voglio pensare. Ieri sera ha riunito i rappresentanti del club velico, gli amici più stretti, ha riunito la sua famiglia e questa mattina ha diffuso una nota che è destinata ad alcune persone, ai dirigenti del PD. Che cosa scrive Verri? Buongiorno a tutti e grazie, mille volte grazie. Tanto affetto merita ogni considerazione e rispetto, oltre che di essere ricambiato. è stata una notte lunga, ho preso tempo, 12 ore, per provare a sistemare le cose, ma accettare è pressoché impossibile per motivi personali e familiari. Continuerò a riflettere perché non è una proposta che si possa scartare con semplicismo, come dimostra l'articolato dibattito di ieri, si fa riferimento all'incontro che ha avuto, ma questa lettera è stata inviata ai suoi amici, ma appunto l'epilogo più probabile è che rimango dove sto. Dove sto bene? Casa, studio e club. Il club è quello velico. Che cosa sostanzialmente dice Verri in questa lettera mandata a chi se l'aspettava? A chi voleva conoscere nella sua decisione perché ieri, come dice lui stesso, il confronto è stato serrato e articolato. La mia idea è quella di dire no, dice Verri, però prende un po' di tempo e questo è il punto. Rispetto a chi, con chi lo prende questo tempo, questo è l'altro punto. Il PD glielo darà il tempo che chieda ancora di riflettere ulteriormente se in sostanza dice io sto bene dove sto? Allo studio legale, nella mia famiglia e col club velico. Il PD è disponibile a dargli altro tempo perché l'altro tempo potrebbe servirgli anche per continuare a dire no oppure potrebbe dire anche sì. Sta di fatto che la sua posizione è un po' ondivaga, come si suol dire. Da una parte il suo cuore gli dice di no, dall'altra la sua mente gli dice beh rifletti ancora. E intanto con questo ennesimo rifiuto il PD entra nel pallone. Perché a questo punto che deve fare il PD? Deve tornare sui suoi passi? Deve andare a richiedere a Pantisano, D'Arturo Cugliano Pantisano, segretario provinciale, di rimettersi in campo? Dopo avergli detto che non era il caso di candidarsi? Dopo averlo invitato a non rinunciare alla candidatura? Che deve fare Pantisano? Probabilmente dovranno, se così dovesse essere, dovranno andargli a chiedere in ginocchio, come probabile salvatore della patria. Anche se qualcuno sostiene che questo è un film preparato a tavolino, che alla fine si voleva arrivare a Pantisano. Ma chi poteva pensare che tutti quelli che sono stati interpellati, dal vicepresidente del Crotone Calcio, Gualtieri, al commercialista, al professionista Matteo, all'avvocato di Grido, Francesco? Chi poteva immaginare che tutti avrebbero poi detto di no? E non è solo il PD in questa situazione, non è solo il PD e il centrosinistra che sono in questa condizione, che non riescono a trovare un candidato a sindaco. Molti nomi sono stati anche bruciati ad arte, non c'è dubbio. Ma c'è anche il centrodestra. Bene, i partiti tradizionali, quelli che compongono il centrodestra e il centrosinistra, non riescono a tirare, come se soltire, un ragno dal buco. Non riescono a trovare chi si candida per fare il sindaco di Crotone. Non è una bella notizia questo. E dice chiaro una cosa. Che chi ha gestito la politica in questi anni non ha fatto crescere nessuno. Non ha fatto crescere la voglia di fare politica a nessuno. Questo è il dato. La voglia di fare politica ce l'hanno solo quelli che la politica la stanno esercitando. Perché lì le candidature potrebbero anche trovarsi. Nel centrodestra è un pochino più complessa la situazione. Nel centrosinistra sarebbe più facile perché la gestione del potere ce l'hanno ancora in mano loro. È calda la situazione. Il morto è caldo, come si suol dire. È ancora caldo. Quindi nel centrodestra la politica, questa ricerca spasmodica di sindaci e senza risultati, dice che la politica Crotone è fallita. Ed ora qualche secondo di pubblicità. Rendere pulita la città è il nostro lavoro. Ma per tenerla pulita serve anche il tuo aiuto. Crotone è di tutti. Collaboriamo a renderla più vivibile. Una città più pulita è una città più accogliente. Aiutaci anche tu a rendere Crotone più bella. Acrea. Da sempre. Al servizio dei cittadini. Nel caso non ce ne fossimo accorti, anche la Corte dei Conti certifica il fallimento del piano di rientro e della gestione commissariale che da sette anni, delle gestioni commissariali che da sette anni governano la sanità calabrese. Il rapporto sul coordinamento finanza pubblica, che è stato reso noto dalla Corte dei Conti che l'ha formulato, che l'ha redatto, dice due cose per quanto riguarda la sanità. La prima è che ci sono 261 milioni e 400 mila euro destinati alla Calabria che non sono stati spesi. La seconda è che si continua ad emigrare, a cercare risposta alla salute, i calabresi continuano a cercare risposta ai loro problemi di salute, al di fuori dalla Calabria. Infatti i ricoveri fuori dalla Calabria sono pari al 21% per il 2015. Nel 2014 erano il 19,3%. Questo significa che la Calabria ha speso in più rispetto ai fondi che aveva a disposizione per la sanità 300 milioni di euro, che sono i debiti prodotti dalla sanità che di fatto hanno portato al commissariamento da parte del Governo nazionale. Ma questo è un dato che penalizza soprattutto, che dice che c'è il fallimento, come sostiene d'altra parte il Presidente del Governo regionale, Mario Oliverio, che su questo ha diffuso un comunicato, c'è il fallimento dell'attività dei commissari in Calabria. Questo è il dato. La Corte dei Conti, scrive Mario Oliverio infatti, nel comunicato, certifica, quando da me ha affermato in questi mesi, circa il fallimento del piano di rientro e della gestione commissariale, che da sette anni hanno la responsabilità del Governo della sanità calabrese. Il progressivo aumento dell'immigrazione sanitaria passiva, scrive ancora Oliverio, l'allungamento delle liste d'attesa, il depauparamento dei servizi sono la risultante della mancata assunzione del processo di riqualificazione e di riordono dei servizi sanitari, che avrebbe dovuto essere la bussola nell'azione dei commissari, ma niente di tutto ciò, al contrario, solo tagli lineari e impostazioni da ragionieri che hanno prodotto poi danni alla sanità di questa regione. Quindi Oliverio torna a chiedere la fine del commissariamento per ridare la gestione della sanità a chi legittimamente è stato votato dai calabresi, cioè all'attuale Governo regionale. Parliamo ancora di sanità dando spazio ad una storia di ordinaria gravità che ci racconta una cittadina crotonese. E ora spazio ad una lettera scritta dalla signora Astorino Maria Piera ai direttori dell'ospedale di Crotone e al commissario straordinario, dottor Arena. La sottoscritta Astorino Maria Piera, nata a Catanzaro e residente a Crotone, in via Morelli 14, porta conoscenza ai signori direttori, ASD numero 5, al commissario straordinario, quanto segue? L'ASD ovviamente, la signora non sa che non è più il numero 5, ma si chiama Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. Giorno, ma non è importante per le cose che racconta, giorno martedì 22, ve la leggo come l'ha scritto ovviamente la signora, 22 marzo 2016, alle ore 5 del mattino, mia figlia, Tallarico Martina, di 11 anni, con febbre alta, si alzava dal letto per andare in bagno, cadeva battendo la testa e la schiuma sul pavimento di casa, restando svenuta. Chiamando il 118 mi rispondevano che non vi era un'ambulanza a disposizione, evidentemente in quel momento le ambulanze erano impegnate in altri servizi. Passandomi al telefono la guardia medica, il medico della guardia medica risponde che per una febbre non sarebbe intervenuto. In vano le mie preghiere, chiedo il telefono, dopo qualche minuto vengo richiamata dal centralino del 118, che avendo sentito la conversazione con il medico della guardia medica, mi dicono che sarebbe arrivata l'ambulanza. La ragazza viene ricoverata in pediatria per gli accertamenti, la ragazza è tuttora ricoverata in pediatria, pertanto chiedo alle signorie vostre di prendere provvedimenti per i gravi episodi, perché i gravi episodi non accadono mai più. Questa è la lettera firmata da una nostra concittadina che si chiama Punt Astorina Maria Piera. Circa 300 migranti giungeranno a breve nel porto di Crotone dopo essere stati individuati da un ATR della guardia costiera a 120 miglia a sud-est della costa crotonese a bordo di un barcone. Ai migranti ha prestato soccorso una nave turca in transito, i migranti vengono attualmente trasbordati a bordo di motovedette della guardia costiera per essere poi condotti nel porto di Crotone. Numerosi controlli sono stati compiuti dalla guardia di finanza Crotone nei confronti di braccianti agricoli impegnati nella raccolta degli asparagi. I finanzieri, attraverso la rilevazione aerea, hanno individuato alcuni terreni dove erano in corso i lavori agricoli. I baschi verdi hanno successivamente controllato le aziende e i lavoratori. Dagli accertamenti non sono emerse in regolarità. La guardia di finanza è scritta in una nota che nel complimentarsi con gli imprenditori agricoli intende assicurare di essere a fianco degli onesti e corretti contro ogni forma di isreale concorrenza. Stamane presso l'aula magna del liceo classico Pitagora di Crotone iniziativa della fondazione Una Casa Perrino. Giovanna Ripolo è la docente che si interessa anche di musica. Parliamo della Casa Perrino. Sì, ripartiamo. Ripartiamo dopo qualche anno, ma ripartiamo stabilendo un'edizione zero che è quella di Casa Rino C'è. Quello che a noi preme, diciamo, sottolineare è il fatto che l'eredità che ci ha lasciato un cantautore crotonese così importante che appunto Rino Gaetano non è una cosa fisica, un edificio. Certo, questo rimane sempre il nostro auspicio, poter creare una struttura. Però con l'esperienza, con tutto ciò che abbiamo maturato in questi anni abbiamo trovato tracce di Rino ovunque, quindi Casa Rino c'è e sono i nostri ragazzi e tutto quello che il nostro territorio sta facendo. È la musica che combacia con la cultura crotonese. Assolutamente sì. E questo è cielo a Casa Rino. Ce l'abbiamo nel DNA in fondo, un po' tutte queste cose. Il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu e questa è una cosa che, diciamo, questo esasperato ottimismo anche con un po' di sarcasmo che contraddistingue i crotonesi, i calabresi. Iniziativa, parliamo dell'iniziativa, si va con il liceo classico. Allora, quella di oggi è il primo step, il primo passaggio. Noi quest'anno abbiamo ricominciato partendo dalla musica colta, quindi ci saranno tre appuntamenti. Quello di oggi è il primo, con la musica appunto classica affidata a un direttore artistico che è del settore, che è il maestro Antonio Sattoro, e saranno tre appuntamenti con la musica classica e non solo, perché oggi ci sarà sia Orazio Ferrari e il maestro De Siena, che sono due musicisti classici, e sia Floriana Mungari e il suo Just Trio. Poi l'11 aprile ci sarà il tenore della scala Oreste Cosimo di origini crotonese, che si esibirà con l'orchestra del liceo Gravina per finire con il quintetto del Teatro Bellini di Catania ad aprile. Questa cosa è solo l'inizio, perché tutto questo porterà, attraverso una serie di passaggi obbligatori e quasi necessari, confrontandoci anche con le migliori eccellenze del territorio crotonese, naturalmente, ora non svegliamo tutti i nomi, porterà fino alla fine di giugno, dove avremo anche grossi nomi. Ma dove si svolgeranno queste iniziative? All'Iceo Classico? Le prime tre coinvolgeranno e coinvolgono le scuole, questa è un'altra delle novità di questa edizione, coinvolgere dal basso, diciamo. Quindi i ragazzi sono il nostro primo obiettivo. Quindi i primi tre saranno nelle scuole, gli altri saranno tutti organizzati, poi man mano ci saranno una serie di location, che si chiuderà, avremo tre grossi nomi, diciamo che concluderanno tutti, uno è Vingei, poi ci sarà Lino Patruno, nomaggia Lino Patruno e chiuderemo... Crotonese, anche lui. Crotonese, anche lui, e chiuderemo con Eugenio Finardi a giugno. Quindi c'è tutto, diciamo, e tutto sono due mesi intensi che attraverso una serie di passaggi ci porteranno alla conclusione che appunto il cielo è sempre più blu. Antonio Santoro è il maestro, proprio il direttore artistico di questa iniziativa. Sì, io con immenso piacere sono stato coinvolto in questa nuova esperienza. Casalino c'è, riparte, riparte dalla tradizione. La tradizione in questo caso è la musica colta e allora abbiamo programmato i primi tre eventi che interessano espressamente la musica colta. Orazio Ferrari al contrabbasso, Francesco Isena Pianoforte, avremo nel secondo appuntamento questa sera insieme a Orazio Ferrari avremo anche Floriana Mungari, Davide Calabretta, Francesco Cretella e Raffaele Rizza nella seconda parte del concerto. Il secondo appuntamento invece sarà l'orchestra del liceo musicale Scaramuzza indirizzo musicale del liceo Gravina di Crotone e poi avremo con Oreste Cosimo talentuoso cantante crotonese che vive il lavoro alla Scala di Milano. Dopodiché avremo invece nel terzo appuntamento il quintetto del Teatro Massimo di Catania l'orchestra, le prime parti dell'orchestra del Teatro Massimo. Le date ancora, le sveleremo piano piano ma insomma sono già i tre appuntamenti che abbiamo concordato da cui si riparte con questa edizione del festival. Il cielo è sempre più blu? Sempre, assolutamente più blu. Grazie. 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 Vi saluto. Grazie. 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 di tutti e di tutti. Sapeva che era imparentato con l'Aquila, ma il Cristo si accontentava, anzi ambidia ci aumentava ed era arraggiato sempre con tutti. Vediava il colore dei pinni di un pappagallo e di un pavono e disprezzava la voce di lusignolo, dicendo che era troppo delicata. Insomma, una voce è femmina. Edio voleva una voce che faceva sentire che Edio comandava suba tutti. Un bello giorno però, ora appena, come è tornato dalla caccia, si ha messo suba un ramo per riposare, ma Edio suba guardava e si gustava il paesaggio. Quando ha visto arrivare, immaginate, un cavallo. Un cavallo, con tutto che era un cavallo che faceva, agli tutti cercando un po' di fresco, si ha messo proprio sotto, che era l'albero dove era ora appena. Un cavallo, come si ha messo già, ha cercato di stendere le gambe, ma si ha ingaggiato in un ruvetto e si ha all'inchiuto le spene. Vi potete immaginare un dolore che aveva avuto. Perciò ha agliettato un'unitrito che si ha sentito per tutto il vagano. Ora appena, a lo sentire, ha rimasto a voce aperta ed ha pensato che questa è la voce che ci vuole per me. Il giorno ha cominciato a sallenare per fare la stessa voce del cavallo e tanto ha provato e riprovato che si ha scorciato tutto il cannarozzo e le corde vocali, ma senza ci riuscire. Vedendo il risultato si è rassegnato ed ha pensato che ci conveneva tornare alla voce sua. Però l'aspettava una brutta sorpresa. A voce, per un sforzo, ci aveva scomparso. Perciò si ha dovuto accontentare in a voce, come si dice, come graccidare, come credere annunci, insomma. Perciò, io le guardate ci dice, ma questo fatto rendo questa cosa, che mi vuole dire? Ma fate e pensaci un po' chi sobbia. E la stessa cosa vi dice voi. Pensate un po' chi sobbia e vedete come può essere. Vi saluto. È stata inaugurata sabato scorso nel foyer del Teatro Apollo di Crotone la mostra pittorica di Maria Stella Marino. La mostra resterà aperta al pubblico fino al prossimo 4 aprile. Sin da piccolo, ha amato disegnare, dice di sé Maria Stella Marino, nata a Dopido Mamrestina, ma sempre vissuto a Crotone, eccezione fatta per un periodo lavorativo a Milano. Nel 2014 ho ricominciato a disegnare e da allora non ho più smesso solo volti femminili. Sono nate così le mie donne, o meglio, le donne di Riri, il mio pseudonimo. Le donne di Riri è anche il titolo. della mostra. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.